Conoscete il tizio super inquietante che c'è dietro i Backstreet Boys e gli NSYNC? Vi racconto la storia. Ciao a tutti, sono Marta Suviva e benvenuti in un nuovo video. Benvenuti in un nuovo video in cui parleremo di pop, la parte sozzetta del pop. Molto probabilmente anche voi siete conosciuti con le boy band. Sto parlando quindi di NSYNC, Backstreet Boys, ma sapete che entrambe queste band hanno in realtà un passato super super oscuro? Oggi parleremo esattamente di questo, parleremo di Lou Perlman. Un tizio super super inquietante che ha creato le boy band. Parliamone, non siete pronti? Ho qui addirittura due agendine perché questa storia è gigantesca. Siete pronti qui per scoprire tutto? Prima di iniziare, se vi volete supportare il mio canale potete farlo con un like, un commento oppure ancora abbonandovi al mio canale. Oppure ancora iscrivetevi perché mi fa super piacere. Mi piacerebbe un sacco arrivare con tutti e tre i canali a 100.000 iscritti. Quindi se vi vado ad aiutarmi così ricevo la targa da YouTube, mi fa super piacere. Quindi grazie mille davvero, mi piacerebbe un sacco. Se vi andasse mi aiuta tanto, tanto, tanto. Inoltre se vi andasse di seguirmi su Instagram e TikTok mi aiuta un sacco perché per le aziende valgono semplicemente quanti followers c'hai. Quindi se lo fate grazie mille mi aiuta un sacco. Ma inoltre codice sconto di Pampling. Il codice sghicio sul sito di Pampling vi farà ottenere un paio di calze completamente omaggio. E è un codice affiliato quindi io c'è più una percentuale. Quindi grazie mille davvero. Ma insomma si vorrei parlare dei Dirty Pop. Allora io non so sinceramente se siete degli ossessionati dai documentari quanto lo sono io. Però se non l'avete visto vi consiglio di vedere il documentario Dirty Pop su Netflix. L'ho visto, sono tre puntate, una docco serie e ho detto oh mio Dio sul lato oscuro del pop. Il titolo riprende proprio una canzone degli NSYNC e quello che racconta dietro è inquietantissimo. Questo documentario è un po' copiato diciamo. Ci sono delle cose che a me non mi hanno convinto troppo. Però parleremo anche della storia. Quindi proprio per questo è sia sul canale di cinema sia sul canale Bixcoven. Dipende se voi l'avete già visto da una parte o dall'altra e state dicendo io questo video l'ho già visto. Tranquilli, tranquilli è normale. Probabilmente siete iscriviti a tutti e due i canali però non tutti sono iscritti o interessati a tutti e due gli argomenti. Il documentario allora è diviso in tre puntate. Principalmente materiali d'archivio e interviste. Inizia con una cosa che sinceramente non ho apprezzato particolarmente che è un react, come si può dire, rianimare tramite l'intelligenza artificiale una foto e dei filmati dell'epoca tramite raccoglimento della voce del protagonista per creare questa serie e farlo parlare, fargli dire delle cose che in realtà sono cose che appartengono a dichiarazioni fatte nel suo stesso libro. Io l'ho trovata una scelta un po' inutile e un po' bruttina onestamente però vabbè. La costruzione del documentario secondo me fa un po' di sugarcoating, come si diceva in inglese, ovvero mette un po' addolcisce, diciamo tutto, edulcora, scusatemi, determinati argomenti che secondo me sono un po' inquietantelli. Il documentario che aveva trattato inizialmente questo argomento era un documentario di YouTube che si chiamava tipo Boy Band Con, che è con si utilizza come per dire truffa diciamo in inglese, e in un certo senso questo è l'argomento. Questa storia è super super inquietante e anche molto molto divisiva a livello morale, quindi sono molto curiosa, dopo che vi racconterò tutto, qual è la vostra opinione. Stiamo parlando dell'uomo che ha creato le Boy Band, come? Opinabile. Lui si chiama Lou Perlman e inizialmente la versione ufficiale di quello che ci viene raccontato è una. Lui dice che lavorava in una compagnia di noleggio degli aerei, noleggiava principalmente a Rockstar, eccetera, eccetera, a questa linea di aerei charter, che quindi li noleggiava ma era a tutti gli effetti una sorta di compagnia aerea. Conosce così i New Kids on the Block, non ha idea di chi siano, sono una nuova Boy Band che inizia negli anni 80, negli anni 90, scusate, e fa un sacco di soldi, guadagna più di Madonna, più di Michael Jackson, e quindi insomma dicono, ah, quindi questi ragazzetti che saltano, ballano, cantano, eccetera, eccetera, fanno fare un sacco di soldi? Voglio la stessa cosa, voglio fare la stessa cosa anch'io. E da qui nasce il progetto Backstreet Boys. 1993, prima esibizione dei Backstreet Boys. Qui inizia uno degli argomenti, secondo me, maggiormente controversi di tutta questa parte della storia, la parte delle Boy Band, ovvero tutti i ragazzi che vengono presi per far parte di queste Boy Band sono tanto, tanto, tanto giovani. Nel 1993, quando la band si è già formata, il più piccolo è Nick Carter. Poi c'è il più grande che è Kevin e come vengono formate queste band? Un po' strano, ecco. Lou Perlman inizia a fare dei provini dentro casa sua. Lui ha una villa, una villa gigantesca, ricchissima, macchina costosissima, eccetera, eccetera, e inizia a pagare in soldoni, tanti, tanti soldi per far fare una bella vita a questi ragazzi. Inizia a fare i provini dentro casa sua e boom, prende Howie. AJ e subito dopo Nick Carter. Nick Carter all'epoca ha solamente 12 anni. 12! E gli viene proposta anche l'opportunità di far parte del Mickey Mouse Club nello stesso anno in cui c'è Brittany Spears, Christina Aguilera, Ryan Gosling e Justin Timberlake. Lui dice no, la madre gli fa, quale vuoi scegliere tra i due? E lui dice no, vuoi far parte dei Backstreet Boys. Allora, già da qui c'è da dire tante tante cose, ma andiamo per gradi, perché il prossimo membro che viene scelto è Kevin. Kevin, tutti stanno lì a Orlando, lui lavora come Aladin al parco di Disneyland di Orlando. Sembrerebbe che un autista di Perlman gli parla di questo ragazzo che è bravissimo, che lavora a Disneyland, che interpreta Aladin. E da lì lui fa questa proposta di far parte dei Backstreet Boys. Serve un altro membro, perché Luperland fa due scatole così dicendo che, insomma, tutte le boyband devono avere un tizio carino, un tizio che sembra più giovane, un tizio che sembra un bad boy, un altro che sembra più vecchio, diciamo, della cosa. E da lì Kevin mi fa, sapete che cosa c'è? Io ho un cugino che è molto bravo a cantare. Volete conoscerlo? Si chiama Brian. Boom. Nati Backstreet Boys. Io inizio subito a dire delle cose un po' così. Ecco, quello che tornerà, diciamo, il leitmotiv di tutta questa situazione è che molto spesso i ragazzi provenienti, che faranno parte di queste boyband, molto spesso sono ragazzi che hanno una famiglia complicata. Molto, molto complicata. Il documentario non dice delle cose che, secondo me, dovevano essere dette. Nick è troppo piccolo per far parte di questa cosa. Loro successivamente saranno totalmente monopolizzati e saranno sempre lì a casa di Lou, in questa villa gigantesca, ma vivranno lì. Stiamo parlando di un bambino di 12 anni che è all'interno di un posto molto lussuoso, con un estraneo, con un signore così particolare che quasi tutti i membri intervistati all'interno di questo documentario diranno che loro non hanno mai visto, né hanno sentito qualcuno che dicesse che Lou allungasse le mani. Però era un signore anziano, cioè adulto, di 40-50 anni, che andava dai minorenni, ragazzini di 15-16 anni, gli diceva fammi sentire quanto ti sei allenato, fammi sentire i muscoli, tira su e fammi vedere gli addominali. Insomma, una roba, possiamo dire, un po' inquietante. Ecco, la cosa diventerà ancora più inquietante perché i Backstreet Boys iniziano a fare una sorta di tour. Fanno il loro primo singolo, che è scritto tipo da Lou e fa tipo cagare le canzoni, non lo viene detto nel documentario, ma è tipo Boys Will Be Boys, una roba così che è una cagata epica. Iniziano a lavorare un sacco, fanno ore e ore di prove, ore e ore di prove di canto, di ballo. Lou paga per tutto, paga per dove dormono, dove vivono, in bus di prima, proprio extra lusso, stanze d'albergo, tutti i tipi. Paga addirittura per mandare in giro a fare questo tour delle high school, delle scuole superiori, un bus che costa all'epoca un milione di dollari per una band emergente, una roba follia totale. Inoltre, inizia a dargli lezioni di canto, di ballo, tutto, tutto, tutto. Questi ragazzi iniziano a provare una sorta di gratitudine e anche di vedere Lou come una sorta di figura paterna. Ma Lou è il loro capo. Questo che cosa implica? Implica tante cose. Lui si contorna di persone che sono, per esempio, Johnny e Donna Smith, che hanno già precedentemente lavorato con i New Kids on the Block, e quindi sono persone belle, smagate, su cosa vuol dire occuparsi di persone molto giovani che fanno pop? Ovvero, robare gli soldi. In questa epoca i Baxter Boys non vengono pagati niente. Lavorano tutti i giorni, ma mensilmente non vengono pagati niente. Zero, zero. Loro si fidano ciecamente delle direttive e le loro famiglie si fidano ciecamente oppure sono famiglie molto assenti, molto problematiche e che quindi si devono fidare per forza. La famiglia di Nick Carter, per esempio, è molto complicata. Purtroppo avrete visto anche delle grandi complicatezze a livello familiare con Aaron Carter, che purtroppo è scomparso. Anche lui sotto contratto successivamente con Lou, ma sua madre era stata in prigione diverse volte. Idem altri membri delle band, ovvero questa cosa di ragazzi giovanissimi con un grande sogno, disposti a tutto. E in situazioni familiari molto molto complicate. Successivamente, addirittura, Nick è troppo piccolo per andare in giro. Quindi qualcuno deve diventare il suo tutore a livello legale. Si dice, però non sembra esserci delle prove effettive, ma sembrerebbe che per un tot di tempo Brian, essendo pure lui poco astento o più grande di lui, è diventato il tutore legale di Nick quando era molto molto piccolo. Questi ragazzi partono per più di un anno in Europa. Perché i Baxter Boys fanno cagare negli Stati Uniti. Esce un singolo, non se li caga nessuno. In Europa sono il botto, in Germania un botto gigantesco. Tanto addirittura che un'etichetta super prestigiosa li vuole mettere sotto contratto. Quindi che cosa fa? Lui inizia lì, boom, manda i Baxter Boys a fare il giro di tutte le scuole, tutti i concertini del cavolo, lì in Germania. Questi diventano famosissimi in Europa, ma dall'altra parte negli Stati Uniti nessuna idea di chi siano. E nonostante tutto in questo periodo, pensate che uno, sono giovanissimi, stanno lavorando molto di più rispetto a quale legge permetterebbero 10-12 ore al giorno e sono ragazzini di 15 anni. Due, sono lontani da casa. Tre, ci sono un sacco di soldi. Lui gli fa fare viaggi in prima classe, hotel di lusso. C'è qualcosa che non torna. Come prendi i soldi? A quanto pare tutti i soldi di lui arrivano direttamente dalla sua azienda di dirigibili. Ovvero, lui aveva un'azienda di dirigibili che per avviarla aveva fatto un'azienda in comune con un ex na-m-m-m tedesco. E lui era ebreo. Complicatezza. Poco prima che questa azienda sembra andare benissimo, tutti contenti, partnership con McDonald's, eccetera, eccetera, ma poco prima che lui inizia questa festa delle boyband accade qualcosa. Nel giro di pochissimo tempo, tipo una settimana, tutti i dirigibili che aveva l'azienda di lui cadono tutti. Uno dietro l'altro. Si schiantano. Nessuno si fa male, ma guarda caso, tutti sono distrutti. Lui riceve un bel compenso, un sacco di milioni per quanto riguarda l'assicurazione, guarda caso, che utilizzerà, secondo alcuni, questi milioni proprio per avviare il progetto delle boyband. 1996, Baxter Boys stanno diventando veramente abbastanza solidi. Quindi, che cosa succede? Ok, avete il successo in Europa? Ok, venite in parte. a disco d'oro, un sacco di cose, firma, fan, eccetera, eccetera, ma Lu ha un'idea. Ok, la boyband sta andando benissimo. Inevitabilmente, a breve succederà qualcosa. Qualcun altro farà un'altra boyband per diventare un competitor delle Baxter Boys. Quindi, cosa fare? La faccio io. Lu decide così di prendere questi tre, cinque ragazzini che hanno avuto successo a stento dopo un sacco di tempo, dopo aver lavorato dieci ore al giorno, e decide così di fare lui stesso una band competitor, sia per spronare i ragazzi, e sia per prenderci soldi doppiamente. Così nascono gli NSYNC. C'è questo filmato all'interno del documentario in cui c'è Justin Timberlake che fa, è piccolissimo, fa vedere un poster di Janet Jackson, e fa, lei è il mio idolo, mmm, sapendo cosa è successo dopo, gli hai rovinato la carriera. da qui succede un'altra cosa molto strana, come vi dicevo, io ho trovato molto strano come sono state formate queste boy band, onestamente, perché da un certo punto di vista ci sono stati dei provini sui giornali, e dici, ah, ok, dall'altro punto di vista, secondo me, è molto, molto strano come siano stati presi questi ragazzi. Cioè, come fai a notare un tizio che fa Aladdin a Disneyland come Kevin, e dice, oh mio Dio, doveva far parte della mia boy band. Cioè, mi sembra una roba molto strana, perché è un posto molto, molto popolato in Disneyland, a Orlando. Quindi, è proprio gigantesco. Per quanto riguarda la formazione degli NSYNC, è ancora più strano. E se voi vedete dei documentari extra, non questo, ma altri, sulla formazione sia degli NSYNC sia dei Backstreet Boys, c'è qualcosa che non torna. In pratica, ogni volta viene data una versione totalmente diversa, ogni volta. Ma se quella di Backstreet Boys in certo senso quasi sembra tornare, non c'è niente di troppo poco losco, dall'altra parte però c'è qui quella degli NSYNC, che è molto, molto, molto strana. Le versioni sono tante, alcuni sostengono che in realtà ci sia già il gruppo già fondato, altri sostengono che quindi loro con il gruppo fondato abbiano mandato una cassetta a Johnny, quello che lavorava con Lou e lui l'abbia presentato a Lou. In realtà non si capisce bene, la versione che viene detta in questo documentario è una di quelle secondo me più strane di tutti. Ovvero, quella secondo cui Lou, questo manager, chiama Chris. Chris è uno di quei, degli NSYNC, non era noto, se quasi tutti i membri successivi, un po' come per i Best Race Boys erano gente che un po' si muoveva nel mondo del canto, del ball, eccetera, eccetera, nell'arte performativa, qui assolutamente niente. Cioè noi abbiamo veramente Justin Timberlake che arriva direttamente dal Mickey Mouse Club e dall'altra parte abbiamo il fondatore del gruppo che è Chris che non ha mai fatto niente. Io qui mi domando, è molto strano che una persona che vuole puntare, costruire una boy band decida di puntare come primo membro un testo che non ha mai fatto niente, che non faceva cose performative, che non cantava, roba così e che era un ragazzino, ora non vorrei fare body shaming, però non è proprio il classico bel ragazzino che dice ah questo le ragazzine ci andranno dietro tantissimo. Da lì Lou l'ha solda nel creare questa boy band. Perché dare questo peso a uno che è stato un ragazzino? Perché dare questa responsabilità? Come fa? Non lo so, cioè i toni mi sembrano un po' loschi e il fatto che Chris durante vari documentari negli anni abbia dato tante differenti versioni, non lo so, nel libro di Brittany per esempio lei dice che Chris e Justin hanno fondato insieme, erano i membri fondatori dei Yansink e qui invece dice Chris che lui sceglie Justin. Justin chiama Jay-Z, Jay-Z è un altro che credevano fosse diciamo quello che spiccasse nel gruppo successivamente quando si sarebbe sciolto e lui ha fatto con Justin insieme al Mickey Mouse Club. Poi successivamente chiamano Joy e successivamente manca un'altra persona e scelgono Lance Bass che è amico di Justin. Tutto si basa su una cosa, firmare quel contratto. I contratti sono molto 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 complicati e ancora oggi ci sono questi contratti per agenzie e cose così. Contratti dove soprattutto se tu non hai una posizione affermata si fondano sul fregarti di tutto quello che puoi. Tutto il concetto che c'è dietro queste boy band sono ragazzini super giovani fregati di soldi super sfruttati nelle ore e ore e ore lavorative e dall'altra parte un uomo adulto che diciamo gli fa questi contratti e dice io vi creo però mi prendo tutto. A livello etico ci sarebbero tante cose da dire però a livello pratico ovviamente parlano queste persone che hanno firmato questi contratti e dicono quella era la mia unica opportunità questo uomo voleva dire fare la differenza tra l'essere un nessuno o avere un successo planetario e effettivamente è stata così se Justin non avesse firmato per gli Unsink forse sarebbe diventato Justin Timberlake ma a oggi non lo sappiamo effettivamente firmare per quell'uomo ha cambiato tantissimo la vita a tante persone ma il costo che hanno pagato loro e altre figure che vi dirò tra poco secondo me a livello etico vi metterà davanti a un dubbio molto molto complicato tipo veramente è giusto oppure no? La storia di Chris è molto molto complicata perché se gli altri diciamo continuano una sorta di diciamo carriera nel mondo dell'intrattenimento da quando erano piccoli Chris no Chris lavorava come cameriere e quindi proprio per questo mi sembra strano come fai a tua persona adulta che sia un manager che roba così a affidarti e incontrare incrociare questo ragazzino che ha tipo 14 anni che ha un cameriere e gli dici senti sì ti do l'opportunità di creare la tua boy band non mi sembra una scelta a livello commerciale sensata mi sembra una scelta dovuta ad altro che non vorrei dire però io la troverei un pochino complicata ecco quindi mentre i Backstreet Boys sono in Germania Lu tenta di fargli le scarpe praticamente fa in America un progetto super super segreto che è formare gli NSYNC lezioni di canto ballo eccetera eccetera quindi sono pronti a debuttare mentre i Backstreet Boys sono in Germania quindi loro hanno appena assaporato un briciole di successo e dall'altra parte competizione io trovo questo super super traumatico a livello da piccolo cioè tu sei un ragazzino adolescente che già stai lavorando come un mulo già non vieni pagato già sei lontano dai tuoi parenti e inoltre già avendo tutte queste pressioni dovute dal lavoro hai anche le pressioni dovute alla competizione cioè posso capire che a livello di soldi per un manager è una svolta però allo stesso tempo che stronzo credo sia anche molto complicato l'idea che questi ragazzi hanno del lusso cioè il fatto che tu fino a che stai vicino a lui vivi nel lusso auto da un certo tipo tutto prima classe non è la vita di chi inizia nella musica chi inizia nella musica non è così effettivamente inoltre nel documentario si dice anche una cosa che io vorrei approfondire perché sono molto molto interessata ecco questo manager è lo school l'avete capito sotto molti aspetti i soldi per l'azienda di dirigibili arrivano direttamente dalla criminalità organizzata quindi fatevi due conti e aveva messo su un sacco di boy band tra cui una girl band questa girl band Lou la mette insieme con un'altra persona la mamma di Justin Timberlake questa girl band si chiama Innocence e se siete fan di Britney Spears sapete una cosa Britney prima di debutare da sola come Britney Spears inizialmente volevano suggerirle di entrare in una girl band ed erano proprio le Innocence poi la più fine Britney ha fatto due mezze foto si trovano eccetera eccetera ma viene Britney ha detto vabbè ce le provo da sola meglio così perché erano una monnezza stai in uno senso poraccia hanno fatto una vinaccia quindi un po' per rispondere alla domanda di prima senza Lou sarebbero diventati comunque chi sono forse sì perché a Britney gli ha detto bene e ovviamente questo qua che come tutti si è venduto il nome di Britney così allo stesso tempo io vi dico certo la madre di Justin Timberlake così tanto invischiata addirittura nel gestire tutte queste band dei ragazzini non lo so io sinceramente vi posso dire una cosa io non riesco a trovare una cosa molto etica nel guadagnare dal lavoro minorile cioè non riesco proprio a pensare perché sia una cosa etica un contone capito in situazioni molto estreme di fabbriche e roba così ma quando tu effettivamente decidi di fare da manager per guadagnare sul lavoro di alcuni bambini cioè già se è tuo figlio brutto già se è il figlio degli altri dio mio dio mio dio mio stai lontano da me i hensink sono considerati una sorta dei backstage boys sfigati tipo si dice vogliamo i backstage boys si ma loro stanno in germania costano troppo beviamo i hensink succede però un momento di svolta i backstage boys sono stati due anni in europa lontano da famiglie tutti e roba così ragazzini una follia e allora ritornano negli stati uniti sono stanchi morti non ce la fanno più da lavorare 16 ore al giorno così che quando disney chiama e dice vorremmo fare uno special i backstage boys dicono oh no guarda noi stiamo in vacanza andate mai a quel paese e così i hensink dicono ma ciao noi siamo jc e siamo anche jc che stavamo lì al mickey mouse club ma perché non facciamo uno special con disney caro signor topolino boom fanno il botto pure loro scrivono il contratto con la bmg l'etichetta quella la tedesca e da subito iniziano le godo un pochino un pochino strano allora lui c'ha aziende ovunque c'ha aziende di pizzerie stick house gelati così una compagnia aere roba così e molto spesso fa a concerti diciamo con amici investitori ovvero persone adulte dove in continuazione porta questi ragazzini e fa dai su canta per i miei amici e quindi questi ragazzini si esibiscono ragazzini di 15 anni 12 anni si esibiscono per questi uomini da fare così allora tutti dicono che non c'è mai stato nulla di male però vi posso dire una roba a me mi pare una cosa un po' inquietante cioè molti di questi band musicali dicono a me sembrava un pochino strano che lui ci presentava in continuazione gente che non c'entra la cena fava con la musica ci presentava il capo da banca d'america che stava nel backstage che cavolo ci entra porta c'è tu figlia al massimo posso capirlo per quello che quindi accompagni ma che ci porti tutta sta gente super riccona nel backstage che vuole stare in stretto contatto con questi ragazzini io non vorrei pensare male però ci penso male assolutamente sì ma subito dopo il successo arrivano i primi dolori gli NSYNC vendono un sacco di sordi disco d'oro de platino eccetera eccetera dopo un anno che non hanno visto manco una lira perché tanto lui gli dice ma tanto pago tutto io ma io ti offro dove dormi io ti do al cibo ma quindi che dopo ti pago tranquillo 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 arriva lì e fa oh ragazzi c'è il vostro primo stipendio dopo due anni che avete fatto un sedere così lavorando 12 ore al giorno guardate un po' che c'è boom un assegno di 10.000 dollari Chris sta in fesa dice madonna mia quanti sordi Jaycee gli fa senti ma io mi sono fatto due conti te stai guadagnando tipo milioni su de noi e a noi ci dai questi 10.000 dollari ma non è un po' pochino non è che ci sta a fregare effettivamente gli stava a fregare si pigliano un avvocato e lui gli fa ma come pochi soldi io vi insegno a cantare e ballare e roba così siete degli ingrati e anche la stampa quando viene fuori questa roba sia loro sia i Bexley Boys che avranno una roba simile inizierà a trattarli un po' come dei dei cosi degli ingrati come per dire madonna mia ma lui mi ha fatto diventare chi siete voi volete anche i soldi ma che cosa volete il nostro lui era un bel paraculo perché lui praticamente a livello legale si è iscritto come sesso membro della band lui praticamente era il sesso Bexley Boys inizialmente ci scherzava e quindi pareva tipo una battuta il sesso Bexley Boys ma in realtà proprio sulle carte legali lui si era iscritto come sesso membro della band perché così si beccava una stecca come manager una stecca come tizio che si occupava di tutto e una stecca come membro principale della band e i Bexley Boys stanno lì e dicono senti zio ma noi stiamo qui stiamo a sedere così andiamo a far giro per tutta Europa con il furmino del qua della testa e la casetta tua che gli ha petto al caldo e vuoi pure la nostra stecca a zio ma che sta a dire 1998 i Bexley Boys gli fanno causa e scoprono che in realtà lui si è erbeccato il 43% dei guadagni anche gli ensign che gli fanno causa e tentano tutti e due di slegarsi da questo contratto veramente del cavolo l'opinione pubblica è molto scettica un po' come dire si vabbè voi mollate lui e siete persi per sempre i Bexley Boys vanno in causa e il nostro lui si prende come avvocato un avvocato di Cristo quello che ha difeso che si è Anthony non so se conoscete ma è un caso un po' all'Anna Maria Franzoni ecco però dove è stata scagionata quindi viene percepita un po' come una colpevole che grazie alla bravura dell'avvocato è stata scagionata poi io non ho mai approfondito il caso quindi non ve so di se effettivamente ci stanno margini non ve so di la mia opinione non ne ho idea però insomma è un avvocato stile taormina capito che viene percepito come lui è ne sa e quindi costa un sacco lui che cosa fa gli promette dice guarda noi facciamo questo accordo tu mi segui come avvocato e io te do una stecca dei guadagni e questo dice ah ok è un sacco di sordi chiudono l'accordo boom i Bexley Boys sono accostretti a pagare 64 milioni a lui per levarsi dalle scatole e l'avvocato che doveva piarsi tipo una decina dei milioni sta proprio lì a sfregarsi le manine e dire mamma mia avevo un sacco di sordi ma lui farà una cosa lui trufferà questo è uno spoiler su un altro aspetto della vita di lui nonostante tutte queste cose legali e quindi effettivamente un'ombra un pochino inquietantella per quanto riguarda i comportamenti di lui sul sfruttamento dei ragazzini e prendersi un sacco di soldi nonostante tutto tutti stanno fissa per lui perché effettivamente la capacità di creare delle star c'era e quindi la gente era disposta a tutto anche a perdere i soldi per diventare una star per avere l'opportunità di avere un impatto nel mondo o di poter diventare famoso qui arriva un reality show che lui fa making the band il nostro amato quindi capisce subito senza subito l'odorino di reality e quanti reality possono far soldi siamo arrivati alla seconda rubricchetta perché ha finito scusate da questo reality nascono gli O-Town se voi siete veramente degli OG che amate le boy band sicuramente vi ricordate degli O-Town io me lo ricordo a grandi linee diciamo che non erano mai i miei preferiti onestamente non sono mai stata una grande fan delle boy band cioè tra questi io preferivo gli Aqua gli Aqua per me erano molto più fighi o le girl band alle Spice Girls poi non lo so questi boy band a me non mi piacevano perché quando ero piccola mi sembravano dei vecchi cioè c'avevo 12 anni e roba così Soren e Klaus degli Aqua mi piacevano tantissimo mentre invece questi mi sembravano brutti con questi capelli così tutti basic non lo so i O-Town firmano lo stesso il contratto sanno benissimo che tutti i problemi degli NSYNC dei Backset Boys però allo stesso tempo dicono vabbè ma noi abbiamo questa opportunità per fare i sordi per diventare famosi quindi che famosa famosa scappare ossa rischiamo cata o rischiata tutto molto gioca sul fatto del sogno cioè il sogno del poter diventare famoso e roba così e molto quello che vende tanto di tutta questa storia è anche il sogno di poter stare vicino a persone famose quindi nel documentario dicono il sogno di poter stare vicino che ne so alle boy band e roba così utilizzare quindi loro per cantare durante le cose le convention per i suoi amici fosse semplicemente perché questi erano personaggi famosi e quindi lui li vendeva così io vi posso dire una cosa secondo me non era proprio quello era un po' più il sogno di stavvicinare i ragazzini verica la verità cioè non me lo toglie da un investitore non può fomentarsi così tanto per dei sei decenni che cantano tanto cielo manca Antonella Clerici se può fomentare così tanto vedere i ragazzini che cantano vabbè insomma lui ce fa i sordi sta un po' confissa quindi inizia a fare tutta una carrettata dei boy band le LFO prende pure Aaron Carter terporaccio roba così take five Brooke Hogan oh mio dio la figlia di Al Cogan non so se vi ricordate il suo reality una monnezza questi super di destra lei che fa queste canzoni orribili tanto c'era o meglio è di Moontag poi i B44 le Innocence quella là di Britney Britney si è proprio così hai fatto la scelta giusta quasi era quando diceva ma vuoi fare percorso singolo o la girl band lei ha detto no ma sai che ti dico vado da sola brava brava Britney hai fatto proprio una botta di culo e poi arriva sta band che so in natural io ho mai sentito in vita mia però a quanto pare ha fatto un sacco di sordi di successo pure loro dicevano lì sì vabbè ma questo c'è tutti questi problemi si prega un sacco di sordi però dicono e se poi dopo questi non riuscivo mai a fare successo cioè quando ci ricapita di avere l'opportunità di avere uno che fa un sacco di successo e noi stiamo qui a invece rifiutare questa occasione e quindi firmano pure loro i genitori della natura sono un po' più svegli forse perché non so questi ragazzini disperati come l'altri e quindi erano un po' più scioccati ma noi questi contratti non ci convincono però questi ragazzini stanno fissa dicono no mamma per favore il mio sogno il mio sogno il mio sogno vai Addi tesoro mio per un po' dei milioni dovemo sta qui e te levo tutto il sogno compromessi i netural fanno un sacco di successo e alcuni dei membri di questa band iniziano a essere molto molto amici con lui alcuni addirittura iniziano a vivere dentro casa sua per sette anni io sinceramente non lo so loro raccontano questa cosa come una normale cosa a me mi sembra un po' strano essere ospite a casa di qualcuno per sette anni o sei in accollo oppure gli dai qualcosa in cambio non lo so mi sembra più naturale che gli dai qualcosa in cambio rispetto a te metti lì e fai avida ai spalle della gente non lo so che fai la spesa la fai tese cioè vai lì a dormire fai come se fossi in hotel non lo so mi sembrava una roba strana sono troppo povera forse per capire forse si in mano questi ragazzini iniziano poi a essere un po' più smagati si rendono conto che questo sta a fare accordi con chiunque sempre le acchie dei sordi roba così in un certo senso questi ragazzini si rendono conto che sono venduti non proprio a livello intimo roba così ma il loro accesso al backstage e roba così è venduto a uomini d'affari molto molto facoltosi e io ve riparo a di tutti dicono non sono mai stati toccati da niente da nessuno però a me sta storia mi sembra un po' strana cioè magari effettivamente nessuno ha mai allungato le mani su di loro però magari anche semplicemente una cosa platonica io non vedo nessun motivo per cui un uomo d'affari possa ritenere appetibile poter stare nel backstage di una boy band di sedicenni o c'è una figlia che è letteralmente super fan o la cosa mi sembra un po' strana non lo so a me mi faceva mi sentivo una vecchia decrepita a vedere Bill Cowlitz di Tokyo Hotel mi sa che ci avevamo tipo tre anni di differenza io mi sentivo una vecchia decrepita semplicemente a non lo so a vederlo diversamente rispetto a un concorrante dello zecchino d'oro quindi non lo so c'è qui un collegamento tra Luperman e una persona quindi avete presente tutte queste cose che io vi ho detto che trovavo un po' particolari un po' dubbiose che non ci sono prove però mi sembra un po' strano ecco il collegamento a Luperman un po' casuale è quello di Michael Jackson Michael Jackson boom siamo in un momento 2000 in cui viene accusato di aver allungato le mani su dei bambini io vi consiglio di vedere le foto della scena del crimine di quando vanno a prendere Michael Jackson che si sente male che è stato fatto fuori dal medico ecco per l'assicurazione una roba così la stanza da letto di Michael Jackson è molto inquietante molto molto immaginate questa stanza da letto dove i vetri sono coperti ci sono dei fogli tipo motivazionali fino a qui ci sta ma ci sono tipo delle gigantografie avete presente quelle là che trovate in farmacia dei neonati con la pubblicità del latte ecco immaginate delle foto di neonati vari eventuali in giro per casa ma tipo 10 20 roba foto di questi neonati a caso che non sono né amici suoi né figli di amici suoi non lo so non sto insinuando niente però vi posso dire una cosa santo dio ma voi conoscete qualcuno che vive così santo cielo io no se entrasti a casa nell'amico mio che ci avesse una roba dicendo mamma mia io scapperei manco il cane gli lascerei da suo ma vabbè questa è una sua cosa vabbè Michael Jackson viene accusato e quindi che fanno fanno un meeting con Luper Roman perché a quanto pare era proprio uno super che contava una cifra all'interno del settore non solo musicale ma a livello politico aveva proprio amici potenti e così Michael e l'altro gli fa che posso fa e Luper Roman gli dice ma fa la boy band ritira poi tutti gli altri Jackson che c'è stavano riunisciti con i tuoi familiari fate un concerto e così la gente sta talmente fissa col fatto che i Jackson 5 si sono riuniti che poi si dimentica di tutto in un certo senso succede così loro stanno a New York ci sono anche i natural vanno alla serata del concerto dove tutti si sono riuniti è solo che la mattina dopo nessuno parlerà del concerto di Michael Jackson e dei fratelli per una motivazione l'11 settembre diciamo che sicuramente ha oscurato tutte le situazioni di Michael Jackson in un certo senso ecco è successa una cosa un pochino più grande e in quel momento uno i telefoni non funzionavano in New York due tutti gli aerei erano fermi così che succede Lu ha un telefono satellitare come ci esistevano all'epoca io mi ricordo all'epoca c'erano una sorta dei megacellulari che non prendevano un cavolo e poi vendevano sti così telefoni satellitari io quando ero piccola li guardavo e dicevo ma do cavolo ci venna col telefono satellitare cioè mi immaginavo non lo so la gente che andava di qua all'isola dei famosi e si portava il telefono satellitare cioè in quell'occasione una persona comune utilizza un telefono satellitare mi domandavo in mezza barca in nulla non lo capivo ecco Luperman tira fuori sto telefono satellitare e chiama niente poco di meno che Bush Bush presidente George W. Bush che in un certo senso per tipo tre secondi fanno sta chiamata e George fa ma certo ti serve un aereo per ritornare a casa certo tutti gli aerei sono fermi ma ora ti mando un mio aereo privato con tanto di scorta in cui ve ne potete tornare tranquillamente in Florida a Orlando raccomandazioni amici potenti situazioni complicate Luperman è un personaggio un po' particolare lui come vi dicevo nessuno l'ha mai visto allungare le mani dei suoi ragazzini domande un po' stranitte però c'è anche una situazione un po' strana alcuni dei suoi amici lo definiscono asessuale non so che cosa intendono se effettivamente la descrizione oppure la parola viene utilizzata un po' così come cavolo gli è varaggiata quindi non lo so dire però c'è una storia un po' strana di lui che per esempio sta male si prende quindi un'infermiera quando lui si rimette l'infermiera gli dice senti ciao ma lui inizia a presentarla e portarla in giro come se fosse la sua fidanzata una volta si baciano una sola volta lei dice guarda forse non è il caso però lui continua a dire in giro che lei è la fidanzata gli fa i regali come se fosse la fidanzata loro non hanno mai nessun rapporto ma anche i bacetti però lui dice che è la fidanzata lei ipotizza che magari lui avesse pressioni nel insomma avere una figura femminile adulta vicino in modo anche da dissipare un po' le ipoteti che tanti ce l'avevano del fatto di piacere i ragazzini dicono nel documentario che lui era molto fisico con i ragazzi soprattutto con quelli più giovani l'ho capito ecco però un conto è un abbraccio io sinceramente ho una lista nera per tutte le persone che si allungano troppo le mani verso bambini in general non anche con secondi fini ma anche semplicemente quelli là che vedono un neonato e gli devono toccare la faccia ma mettete le mani a posto quelle mani in sozze che c'hai ma come ti permette di toccare questo ragazzino è appena uscito dalla fabbrica tra un po' che te tocchi non lo so vabbè quindi mi dà fastidio quindi quando l'agenza si pia troppe libertà con i bambini così io magari so eccessiva che gli do la mano ai bambini quindi gli faccio piacere perché mi sembra educato se no è brutto che tu vedi che con gli adulti l'agenza si cosa in una certa maniera e con te si prendono delle libertà a me faceva ruotere il culo quando ero piccola tipo ah vabbè perché a me non mi dai sto rispetto e quindi io con i bambini faccio la stessa cosa faccio tipo piacere che coso la mano mi presento e poi dopo insomma con loro la loro discrezione se mi devono dare il bacetto se sta sentono se mi vanno abbracciare io non è che vado lì e strapazzo sti ragazzini che manchi li conosco cioè nemmeno che i cani si fa perché i ragazzini devi essere libertà quindi immaginiamo anche come insomma sia complicato con degli adolescenti che vogliono stare per i cavoli su loro e tu te metti lì a fa cosa allunga le mani cioè non lo so io con tutto il buon cuore io sinceramente magari non c'è niente di male io però ci vedo un sacco di roba sbagliata in tutti questi contesti anche quando la gente non c'ha nessun secondo fine però mettete le mani a posto man mano la gente inizia un po' a chiedersi una cosa ma lui sti sordi dato cavolo li via ha un sacco di sordi che fa a girare tutte queste band con tutto il lusso a 5 stelle e scoprono che lui c'ha un sacco un sacco un sacco di aziende negli yogurt c'è una catena di pizzeria nella musica nei nightclub c'è pure un locale dei spogliarellisti per le madri una squadra di football e una compagniera lui c'ha da qua un po' di sordi la gente dice ah senti io mi sento un pochino stanco ma ti pago una vacanza e tutti ipotizzano che in realtà tutti i suoi sordi arrivassero dal noleggio degli aerei c'è un piccolo dettaglio ecco che io vi vorrei dire lui dice che insomma vi ricordate la storia iniziale che lui ha iniziato a scoperto New Kids on the Block perché aveva sta transcontinental che quindi affittava aerei di qua di là e il punto è che nonostante tutti questi viaggi tutte le band eccetera eccetera nessuno viaggia con la sua compagnia di aerei e questo è un po' strano perché non farlo perché pagare qualcun altro quando c'è i tuoi aerei c'è un hangar ma è sempre perennemente vuoto nessuno ha mai visto un aereo né ha mai visto niente l'unica fonte del fatto che lui avesse questa compagnia aerea è una foto sulla scrivania dove c'è un aereo però scopriranno a breve molte di queste persone che lui non ha mai avuto una compagnia aerea e quella foto non è un aereo vero ma è un modellino che secondo la prospettiva è tenuto davanti a un aeroporto ma è tenuto dalla coda e infatti la parte finale è tagliata dalla foto perché c'era la mano che lo reggeva quindi questa società degli aerei è totalmente finta lui va alla Transcontinental e dice investite su di me investite in questa azienda di aerei nella mia compagnia aerea ma questa compagnia aerea non esiste e inoltre lui cosava prometteva un tasso di interesse che era altissimo troppo sopra le aspettative quindi c'è qualcosa che non torna lui dove ha preso questi soldi quindi per le band se in realtà questa compagnia aerea da dove tutto inizia non esiste i dirigibili i dirigibili come vi dicevo boom spancano cadono tutti lì prende i soldi delle assicurazioni e li investe nelle boy band i ragazzi delle boy band Backstreet Boys NSYNC erano convinti che lui gli stesse pregando un sacco di soldi in realtà no lui non c'aveva una lira a quanto pare era lui ad aver pagato l'etichetta discografica tedesca per metterli sotto contratto e lui ha pagato un sacco di soldi da cui iniziano ad arrivare tante persone che hanno investito nella compagnia aerea e man mano iniziano a chiedere ma come vanno le cose ecco tra cui ci sono tante persone che erano i genitori dei dipendenti che erano amici di Lou Lou inizia subito a lavorare con uno dei suoi amici di infanzia Frankie in questa compagnia di dirigibili Frankie ha una passione per il volo è molto esperto e si vede ciecamente di Lou tanto che quando apre questa cosa di compagnia aerea di investimento subito dice la madre di investire tanti ragazzi delle boyband investono in lui perché ci credono totalmente e investono in questa compagnia tante persone comune vedono un annuncio sul giornale leggono dei profitti e investono nella compagnia purtroppo però stanno arrivando brutte notizie sempre più persone chiedono come stanno andando le cose gli vengono mandati di rendiconto sembrano tutto ok però quando chiedono di avere dei soldi di riprenderli non è possibile farlo l'avvocato non viene pagato l'avvocato che gli ha fatto vincere la causa gli doveva dare 16 milioni non sono arrivati così lui che cosa fa? chiama l'FBI tutte queste cose stanno andando in una certa direzione e tutti sembrano ancora fidarsi totalmente di Lou tranne una persona Frankie Frankie il suo amico di infanzia riesce ad essere sempre più agitato mangia sempre meno sembra essere molto molto spaventato tanto che addirittura a un certo punto si toglierà la vita in molti sospettano che lui abbia capito visto che era una delle persone più vicine a Lou che in realtà si era rubato tutti questi soldi che non era vero niente non c'era nessuna compagnia aerea e ovviamente viveva anche tutto il dramma di aver fatto investire tutti i risparmi di famiglia di sua madre in questa azienda alcuni sospettano che Lou sia diciamo il responsabile del fatto che Frankie si sia levato la vita altre ancora come per esempio Lou stesso sospettano che Frankie non si sia levato la vita ma sia stato fatto fuori magari dai creditori o dai legami complicati come per esempio la criminalità organizzata che aveva finanziato una delle aziende di Lou ma Lou non si ferma è solo che il suo tocco magico sembra un po' rallentarsi e fa un altro reality big in America questa volta in Europa con una band che dovrebbe sfondare in America in realtà hanno fatto gagare in sé in cula di nessuno le boy band magari man mano le boy band o se ne vanno per l'affare loro oppure si separano si spezzano eccetera eccetera tra cui i natural uno dei natural finisce a vivere a casa sua l'altro invece diventa un suo collega e iniziano ad andare a fare affari insieme fare un'azienda insieme da qui iniziano i problemi perché sempre più persone iniziano a pensare chi diamo i soldi indietro e nessuno li riceve tutto è molto rosco e questi annunci prendono l'attenzione anche da una giornalista finanziaria che dice questi interessi sono troppo belli per essere vero forse non sono veri e forse si tratta di una truffa da lì si scopre che in realtà Lu non aveva minimamente soldi ma questo era solamente uno schema Ponzi Lu aveva avuto dei soldi all'inizio per l'assicurazione dei dirigibili per mettere i soldi nelle boy band ma in realtà tutti questi soldi che rientravano erano molto meno rispetto a quelli che investiva a quelli che spendeva per vacanze e cose varie una vita di russo e era sempre alla ricerca di nuovi investitori così come utilizzava le boy band per farli cantare in giro eccetera eccetera così da avere nuovi flussi da poter continuare a mantenere la macchina lo schema Ponzi funziona che tu diciamo i nuovi investitori pagano le altre persone così da tenerle buoni tutto ma se non arrivano nuovi soldi tu non puoi dare niente agli altri tutto si blocca e la gente ti sgama gli unici veri investitori all'interno di questa compagnia erano investitori molto roschi gli altri erano persone che avevano investito tutto e avevano perso tutto man mano l'fbi va a approfondire tutte le persone iniziano a approfondire e a investigare e scoprono proprio che la compagnia aerea non esiste Lu era molto bravo nel falsificare i documenti e quindi una delle cose che fa è mandare rendi conto false alle persone per farle stare buone e falsificare tutti dei guadagni della compagnia aerea che in realtà non è mai esistita come vi ho detto l'unica cosa che esisteva era la foto di un modellino fotografato in prospettiva mentre si teneva da una parte scoprono che Lu ha preso tipo 300 milioni di dollari da tutti i vari investitori e alcune delle cose che mandava per far finta che insomma c'era tutta una struttura reale dietro di sé erano persone che in realtà non erano più in vita che in precedenza avevano collaborato con lui ma ormai erano passate a miglior vita lui gli aveva rubato l'identità man mano sempre più persone iniziano a parlare perché vogliono i soldi indietro e non c'è nessuna opportunità l'fbi è letteralmente alle canti cagna e inizia a chiamare la giornalista quella che aveva scritto il primo articolo dicendo ma tu che cosa sai da lì succede qualcosa da lui capisce che insomma stanno a sgamare quindi che cosa fa vada la segretaria e dice io mi vado a prendere una vacanza e prende il tizio del johnson di michael johnson dei natural il cantante e dice visto che siamo colleghi andiamo a bali per fare una vacanza e fare degli affari gli dice però guarda mi hanno bloccato la carta non so che è successo quindi c'è il tizio dei natural che paga per tutto per la vacanza a bali però dice vabbè succede anche lui mi ha pagato un sacco di cose ormai siamo colleghi quindi facciamo questa cosa ma non sapeva una cosa che lui era ricercato dalla polizia e stava scappando a bali mentre lui credeva che stessero facendo una vacanza quindi stanno lì a bali tranquilli spensierati quando un giorno questo dei natural va nella hall e prende uno dei giornali finanziari lì si mette a scorrere e inizia a vedere degli articoli su lui scopre lì che è ricercato e che molte persone sono state truffate da lui e quando lui si gira verso lui lui con una matita sta facendo a mano un finto logo di una banca tedesca lo manda via fax e praticamente riceve un credito di un milione di dollari era riuscito a falsificare questo documento che approvava una richiesta di credito che era stata approvata e che quindi aveva avuto così velocemente dei soldi lì questo Michael Johnson si rende conto che insomma questo è un truffatore e lui è colpevole cioè complice non volendo quindi senza di scappare assolutamente appena avete questa roba fa senti io sto fuori scappa se ne va da bali ma proprio lì la giornalista era molto seguita questa finanziaria che insomma stava parlando di truffati eccetera eccetera e uno che la seguiva stava proprio lì a bali quindi che cosa fa? sta lì con la moglie fa una scusa e inizia a scattare delle foto perché riconosce Lu era un uomo così famoso dopo le boy band eccetera fanno una foto la mandano la giornalista la manda all'FBI e lì l'FBI si rende conto che dietro di lui mentre stava lì a colazione a mangiare tranquillo c'erano già due agenti sotto copertura che lo stavano tenendo d'occhio Lu viene arrestato deportato riportato negli Stati Uniti e deve affrontare un processo frode ha tuffato tantissime ma tantissime persone tre anni prima a quanto pare un'altra gente era sulle tracce di Lu per quanto pare sempre una frode ma legata a una delle sue agenzie per modelle lì fatalità il giorno prima che doveva essere arrestato la gente viene dimessa gli viene tolto il caso e tutte le accuse vengono lasciate andare questo potrebbe essere inevitabilmente per i forti legami molto in alto di Lu insomma se il presidente degli Stati Uniti dopo l'11 settembre gli può chiamare e dare un aereo mentre tutto il traffico aereo è fermo questa è una strozzata a voglia se ti posso chiudere un'indagine così ipotizzano che forse addirittura il procuratore della froide stessa possa aver distrutto tutte queste accuse perché è un grande amico di Lu Lu viene condannato nel 2008 a 25 anni di carcere una pena gigantesca che a volte nemmeno le persone che hanno tolto la vita a qualcun altro ricevono e le motivazioni sembrano essere abbastanza eloquente cioè addirittura il giudice dice guarda per ogni milione che tu darai io ti levo un mese della condanna da lì in poi tutte le persone che avevano vicino si allontanano e ovviamente è una situazione complicata sotto tanti aspetti sia perché insomma il potere e la fascinazione che genera il potere non c'è più ma anche perché molte persone si trovano in una situazione complicata cioè molti di questi ragazzi delle boyband si rendono conto che il loro sogno è stato reso possibile grazie ai soldi rubati da persone che hanno perso la vita ci sono le interviste delle persone che dicono i nostri fondi pensioni tutti i risparmi di una vita li abbiamo investiti ora non abbiamo più niente e io preferirei togliermi la vita anziché continuare a vivere con queste condizioni sapendo di non aver più niente lui in prigione continua ha una narrazione molto fantasiosa manda lettere in cui dice che sta facendo dei provini ai rapper durante la pausa d'aria dice che molte persone l'hanno contattato e che quindi risolverà tutto e a un certo punto viene ricoverato aveva cambiato una valvola al cuore aveva fatto infezione quindi è stato ricoverato ha firmato per essere messo sotto coma farmacologico per cambiarla però purtroppo non è sopravvissuto quando Lou si spegne diciamo che le cose diventano ancora più gravi cioè lui era il nipote di Simon Garfunkel uno dei due e quando muore nessuno richiama per prendere il suo corpo solamente Michael Johnson quello di Natural lo chiama all'obitorio per sapere che fino avesse fatto il corpo se dovevano fare qualcosa anche quello che era un parente famoso che nel momento di Vicco se la flexava che il nipote fosse il numero uno del pop mondiale non ne ha voluto sapere niente quindi hanno fatto un funerale con solamente 5 persone ed è stato sepolto in una una roba un po' così ecco senza nessuna tomba oltre 2000 famiglie sono state truffate e sembrerebbe che Lou abbia rubato oltre 500 milioni di dollari di cui ne hanno recuperati solamente 10 il suo sembra essere lo schema Ponzi più lungo e longevo della storia degli Stati Uniti d'America e davanti a questo una delle cose etiche è proprio questa secondo me che è difficile soprattutto per quanto riguarda i personaggi pop coinvolti io non so nemmeno immaginare ora pensare che ne so Justin Timberlake i Backstreet Boys che adesso capiscono che il loro stile di vita di lusso era stato fomentato grazie ai soldi rubati a queste famiglie loro non avevano idea pensate a immaginare quanto la tua fortuna adesso sia macchiata da questo dal fatto che la tua opportunità di diventare qualcuno sia arrivata con i soldi rubati di altre persone ovviamente loro sono grati probabilmente a Luperman per l'opportunità che gli ha dato però fino a un certo punto Backstreet Boys sono continuati anche dopo essersi allontanati da loro gli NSYNC addirittura sono diventati anche più grandi dopo essersi allontanati da lui Bye 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 che è uno dei primi successi veri degli NSYNC è venuto dopo Luperman dopo che si erano allontanati da lui dalle sue scelte contrattuali inevitabilmente che ha cambiato il pop e la concezione allo stesso tempo il prezzo per dare un impatto nella cultura popolare è stato molto alto molte famiglie si sono tolte la vita per quello che avevano perso e non lo so è complicata questa storia perché da una parte c'è un merito a livello lavorativo dall'altra parte però ci sono tanti tanti lati oscuri il trattamento dei minori lo sfruttamento lavorativo dei minori sottofagarli farli lavorare tanto esporli anche a uno stile di vita molto sopra le aspettative che potrebbe illuderli di quanto questo lavoro potrebbe dargli che magari potrebbero viverlo e avere successo per un anno un singolo e poi sparire a livello etico questa storia secondo me è molto complicata molto brutta e contrastata e forse è interessante anche per questo io fortunatamente non sono direttamente connessa però non posso nemmeno immaginare quanto sia complicato gestire a livello emotivo questo peso per le persone direttamente coinvolte essere molto felice per l'occasione che questa persona ti ha dato e quanto ti ha dato magari anche a livello umano allo stesso tempo fare i conti con i soldi sporchi da dove arrivano e cosa ha alimentato il tuo sogno è brutto molto molto brutto e non dovrebbe essere così perché alla fine tutte queste persone hanno lavorato sotto per arrivare dove erano ecco quindi non lo so voi conoscevate questa storia io ho visto questo documentario d'artipop stavoliva what? Dio mio molto molto inquietante voi fatemi sapere cosa ne pensate grazie mille per essere stati con me e se siete rimasti qui lasciate qui sotto un emoji con la musica e fatemi sapere qual è il vostro gruppo preferito boy band girl band preferite gli NSYNC o Backstreet Boys a me piacevano quasi di più lo sapete che cosa i five scotti dei five assolutamente e mi piacevano forse no i boysone erano brutti possiamo dirlo non lo so erano quasi tutti brutti onestamente però tra NSYNC e Backstreet Boys forse preferivo i Backstreet Boys la canzone everybody quanto mi piaceva il video e la mia preferita forse di Backstreet Boys è Legend of Life una figata ma questo era tutto bamboli fatemi sapere delle vostre crush quando eravate adolescenti e vi ho rovinato i ricordi con queste informazioni oppure no fatemelo sapere grazie mille ancora e noi ci vediamo al prossimo video ciao ah se avete trovato il video interessante e vi andasse di condividerlo aiuta tantissimo il mio lavoro quindi grazie mille davvero se lo farete se vi è intrattenuto e vi ha dato qualche informazione interessante grazie ancora ciao